Ehi ciao fantasma tutto bene? XD era una battuta ma l'ho fatta solo perché so che stai per andare in guerra contro quei tizi che probabilmente ti faranno il culo XD Sei proprio una testa di cazzo, volevo vedere se ci venivi tu a fare la guerra al posto mio invece di stare lì come un pirla a mandarmi informazioni in radio che non mi servono a un cazzo Se vuoi renderti utile dimmi piuttosto quanto è finita la partita di Champions ieri sera Ok adesso ho questo bel fucilone, carichiamolo ed andiamo a spaccargli il culo a tutti Bu 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 ma qui non ci sono nemice, è una vera rottura di palle forse dovevo impostare il livello di difficoltà più alto Nascondiamoci dietro questo cespuglio, spero solo non ci abbia pisciato qualche cane Ecco il primo nemico Dai fantasma vai Dove? Affanculo Secondo te? Ah si scusa ora sparo Bene ho fatto fuori questo pirla, ma forse ce ne sono degli altri Accidenti forse sarebbe meglio se aggiustassero queste baracche Ah 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 eccolo Bene l'ho ucciso Accidenti è stato facile, solo che mi dovrò scusare perché gli avevo promesso che gli avrei sparato alla testa Bene fantasma, adesso procedi verso quelle baracche lassù Ma va Non lo avevo capito fortuna che ci sei tu Adesso gli faccio vedere io con questa bottiglietta di Actime l'esplosiva Ehi fantasma guarda che si chiama Granata E che cazzo ma sei sempre a fare il precisino Madonna ma qui è pieno di soldati Salve a tutti e benvenuti a Mattino 5, questa mattina avremo in collegamento Ops scusa fantasma ho sbagliato frequenza radio Comunque sai chi c'era in collegamento? C'era Fabrizio Corona che praticamente diceva Ma che cazzo mi interessa? Io sono in guerra e tu ascolti Mattino 5 Devo trovare un modo per arrivare possibilmente vivo fino al punto di estrazione Ma che palle Pensavo di averli uccisi tutti Vabbè dai adesso questo è morto Non ci dovrebbe essere più nessuno Ecco infatti come non detto questo era nascosto lì Adesso riprendo la bottiglietta Granata e basta Stavo dicendo adesso prendo la Granata e gli faccio saltare il cervello Fuoco Scoppiate bastardi Bene riprendiamo il fucile e andiamo a farli secchi tutti Accidenti è da mezz'ora che cerco di uccidere questo qui Ma stai un po' fermo cazzo Va bene adesso basta ti faccio vedere io Carica Cazzo sto morendo Non c'è un trucco o qualcosa del genere? Prendi questo Fortuna Una che mi hanno dato questa XM8 con i punti spesa all'IKEA Punto merda sono morto Vabbè pazienza ora tanto ricarico il salvataggio Vabbè arrivederci a tutti Grazie per la visione e spero il video vi sia piaciuto Se non vi è piaciuto siete degli stronzi XDXDXDDD Commentate e votate Ciao e alla prossima Anche da me Ciao a tutti Cazzo ancora tu Ciao a tutti